Domenica il sindaco di Parma inaugurerà questo ampliamento del punto di vendita dell'azienda Stuart dell'Emporio, taglierà il nastro dopodiché partiremo spero con un ampliamento delle nostre vendite. L'Emporio Potere Stuart è il punto vendita dell'azienda Stuart, un'azienda che vanta un'esperienza di oltre 30 anni nel campo dell'agricoltura e della ricerca. Il nuovo Emporio cambia diverse cose, soprattutto i locali, sono molto più ampi, molto più belli e molto più ricchi e abbiamo ristrutturato una stalla ottocentesca. Nel nuovo Emporio ci saranno anche prodotti delle province vicine come l'olio della spezia, i testaroli della lunigiana, i prodotti di Piacenza come gli asparagi, i vini doc, più prodotti ma sempre con la stessa filosofia del prodotto dove conosciamo l'azienda che produce, possibilmente un prodotto biologico e magari anche di varietà antiche perché il nostro obiettivo è quello del recupero della biodiversità locale.